... ... ... ... ... ... ... Consigliere Massimo Luce, salutare il Consigliere Polizio, Consigliere Perfezzi, Consigliere Morco, Assessore, sindaco, oggi sei un pervoluto Caro Enzo, siamo tutti per la prima personale ha aspettato di venire in faccia la tua e tua madre, e lo hai usato adesso numericamente e non hai più questa maggioranza che dicevamo a me, non hai più la maggioranza politica, ma hai più la maggioranza di noi. Io ti esorto in questo momento, in modo, faccio aperto a te, la tua vera responsabilità e il lavoro per questa città, che ne rubi un pochino, visto che non sei di Grasovia. Io ti chiedo bellamente di mandarti, di sospenza, chiede la sospensione del Consiglio, di metterti, perché non hai più la condizione di poter andare. Questo te lo dico, ovviamente, da cittadino, te lo dico voi da domicolo, altrimenti il modo irresponsabile, che tu ti, ovviamente, dovrai andare avanti, è irresponsabilmente aspettarti di venire di poterciare a tu portare, come il bilancio che tu hai presentato, come la tua amministrazione. Allora, io ti chiedo, è l'ultima volta che ho presentato il Consiglio, perché vuol dire che veramente, forse, hai deciso di non fare più il Consiglio, dovrai più voglia di andare avanti, qualcuno fare già l'attività in questi giorni, forse lui è stato, non credeva che era vista la politica, non era concredibile che era un pochino difficile, amministrare quella parola di soluzione, è una cosa che hai visto con mano, tutt'altro che è molto complicata di fare. Quindi, Dica, io ti chiedo pubblicamente, fermati. Grazie. Va bene. Consiglio di Giovanni del Comune.